Nuovo look per piazza Vittorio Veneto. L'amministrazione comunale di Calozzo Corte sta pensando infatti di ridisegnare il centro città. Non un cambiamento di tipo strutturale ma una riorganizzazione di spazi e servizi a disposizione dei cittadini. Occorre far rivivere la piazza favorendo l'aggregazione, le attività commerciali e le manifestazioni, commenta Dario Gandolfi, assessore alle opere pubbliche. Innanzitutto verranno realizzati giochi inclusivi per bambini nella parte più alta della piazza. Per il resto ci sono una serie di proposte concrete che valuteremo insieme al sindaco Marco Ghezzi e alla giunta. Tra queste la revisione del regolamento comunale per permettere la collocazione di tavolini all'esterno dei locali pubblici, la sistemazione di un maxischermo e di un palco attrezzato per gli eventi. Nelle planimetrie allo studio è prevista inoltre una fontana. In piazza Veneto si potrà parcheggiare? Nulla di deciso replica Gandolfi. Per valutare tutte le ipotesi terremo a ottobre un'assemblea pubblica in sala consigliare, aperta a cittadini e commercianti. C'è la necessità di ridisegnare una nuova piazza tutti insieme. Desta però curiosità il fatto che a rimettere mano a piazza Veneto sia un'amministrazione di centrodestra con molti esponenti di quella giunta a Rigoni che riqualificò il centro circa 15 anni fa. Un ripensamento? Nulla di tutto ciò, replica l'assessore Gandolfi. Allora si realizzò la struttura. Adesso, dopo un po' di tempo, vogliamo effettuare un restyling degli arredi, come avviene in una casa. Sul tema intervengono anche le opposizioni, in particolare il gruppo Cambia Calolzio, rappresentato in consiglio da Diego Colosimo e Daniele Vanoli. Giustissimo realizzare giochi per bambini e per i piccoli diversamente abili, ma non su quella colata di cemento attacca Colosimo. Meglio pensare a interventi di questo tipo in altre aree verdi della città, coinvolgendo scuole e ragazzi con proposte e progetti. La piazza e il centro devono essere rivitalizzati con iniziative socializzanti durante tutto l'anno e con politica a difesa del piccolo commercio. Intanto prendiamo atto del fatto che la piazza realizzata dal centro-destra, per stessa ammissione di esponenti dell'attuale giunta, non funziona. Noi lo dicevamo da tempo.